aspetta ha fatto un mega fortino ho atterrato il cazzo è lei? cosa spara? in testa l'ho preso se tra gente mi sarebbe ho atterrato c'è anche un altro eh? si si sta arrivando un altro si sopra, 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 sopra io ne ho, guarda sopra oee tieni Simo esaltamente intergenti ho, ho entrato proprio con quell'armablu in testa